Senti una cosa, ma io adesso non vorrei aver capito male, ma tu stai attaccando la sinistra. No, io non volevo attaccare la sinistra. Cosa volevi? Le senate, come diceva, le départie. Ah, non comprendo. Non comprendo? Cosa hai detto? No, io ho sentito la canzone, secondo me tu hai attaccato la sinistra. Tu non sei sinistro? Tu e Grillo, non siete sinistri? Nosotros in Spagna diciamo, tu me stai a provocando. Cioè, il napoletano, in Spagna. Nosotros diciamo, tu me stai provocando. No, però io sono contento. Sono contento perché lasciamo questo dubbio. Lasciamo il dubbio che tu hai attaccato la sinistra. Io sognavo cechevara e c'è Bordone. Questo è il nucleo della canzone. Eh, lo so. Bordone secondo me si arrabbia. No, ma non per Bordone. Bordone è un grande, è una bravissima persona. Sì, poi io lo vedo bene. A me piace Bordone. Anche a me. Io adoro Bordone. Anch'io. Io vorrei andare a cena con lui una sera. Io ho proprio una passione fisica per Bordone. Ascolta, volevo dire, ho una passione fisica anche per Buttiglione. Sì? Buttiglione è stupendo. Perché io sono un filosofo. Posso dire una cosa? Io sono un filosofo, io conosco le lingue. Io parlo molto bene le lingue. Io uso l'inglese per parlare. Uso il tedesco per scrivere. Le stronzate le dico in italiano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.